si tratta di un movimento artistico sviluppato si attorno alle posizioni del critico pierre resteni l'operazione si allineava a fenomeni coevi come la pop art in un progressivo distacco dai principi modernisti di autonomia e unicità dell'opera d'arte ai quali erano contrapunti l'esecuzione meccanica e la riproducibilità tecnica nello specifico la mac art si basava sull'utilizzo del mezzo fotografico e di supporti pittorici tradizionali tramite tecniche quali il riporto e la stampa diretta su tela e sulla possibilità di concepire opere prodotte in serie alle mostre della mac art parteciparono gianni bertini mimmo rotella alain jacques paulburi nicos serge beguet aldo tagliaferro elio mariani e bruno di bello l'esordio del nuovo movimento avvene nel 1965 in occasione di una mostra alla gallerie j di parigi l'attività unitaria del gruppo tese a sfaldarsi dopo il 1968 anche a causa dei divergenti percorsi individuali dei singoli componenti il movimento nacque con la mostra di parigi curata da ristagni poi si spostò in italia con la mostra alla galleria blu di milano dell'ottobre 1966 se le premesse erano state in parte disattese l'estetica della mac art si proponeva comunque come risposta europea alla pop alla ripetizione dell'immagine tratta dai media contrapponeva infatti una sua risemantizzazione mediante accostamenti insoliti e in alcuni casi fotomontaggi se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando